Con la processione delle fascine, la solenne messa celebrata dall'arcivescovo e l'accensione della focara, si entra nel clou dei festeggiamenti che i grottagliesi riservano al loro santo patrono, San Ciro, il medico venuto dall'Egitto. La focara è già pronta da qualche giorno, costruita con i tralci di potatura delle viti e con una particolare tecnica che ne consenta una rapida ed efficace accensione. Simbolicamente, con la processione dei cavalli e dei carri agricoli, vengono sistemate solo le ultime fascine. Nella chiesa madre, l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, celebra la funzione religiosa e subito dopo si sposta per benedire l'enorme catasta di legno da ardere. Sulla focara ogni anno viene sistemato un basso rilievo che raffigura San Ciro, realizzato ex novo da un artigiano locale nel corso dei mesi precedenti e che poi viene distrutto dal fuoco. Il momento più atteso è quello dell'accensione. Gli anziani artigiani che hanno realizzato la pira, avendo cura di lasciare al suo interno un vano accessibile, entrano nel cuore della catasta di fascine e appiccano il fuoco. Del giro di qualche minuto le fiamme sono altissime ed il calore e la luce si diffondono a decine di metri. Tra qualche ora la ricorrenza religiosa in onore di San Ciro, celebrata con un'altra processione, questa volta di fedeli scalzi a seguito della statua del santo.